Nel pieno periodo della corsa allo spazio, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica lottano per la corsa allo spazio. Gli Stati Uniti erano fiduciosi per il proprio programma lunare ed erano pronti a lanciare Apollo 7 l'11 ottobre 1968, il primo volo con equipaggio delle missioni Apollo, dopo il disastro di Apollo 1 in cui tre astronauti persero la vita. Poi, dopo Apollo 7, avrebbero lanciato Apollo 8, un giro completo con equipaggio attorno alla Luna e il ritorno in sicurezza sulla Terra. Gli Stati Uniti ormai sembravano vincere la corsa alla Luna. Tuttavia, il 18 settembre 1968, i servizi segreti dei paesi dell'Occidente captarono un segnale da Zondo 5, una missione lunare sovietica. I messaggi erano insoliti, emettevano le voci dei cosmonauti Valery Bukovsky, Vitaly Sebastianov e Pavel Popovich, che parlavano come se stessero per atterrare sulla Luna. Citando le comunicazioni dei cosmonauti, il volo sta procedendo secondo la norma. Ci stiamo avvicinando alla superficie. Il personale della CIA e la NASA impazzì. Non riuscivano ad accettare che l'URSS li avesse appena battuti sull'allonaggio. Ti do il benvenuto su Spaziomatic. Resta con noi per addentrarti all'interno di questa storia che pochi conoscono. Prima di continuare, ti ricordo di iscriverti e di attivare la campanella. Secondo i nostri dati, molti di voi apprezzano i nostri video, ma non sono iscritti al canale. Ti invitiamo a farlo per non perderti nessuna storia come questa e tutte le novità su spazio e astronomia. Nel 1968 era passato più di un decennio da quando i sovietici avevano stupito il mondo con il lancio dello Sputnik, e solo pochi esperti rienevano che l'Unione Sovietica avesse una minima possibilità di battere gli Stati Uniti sulla Luna. La NASA aveva pronto il suo nuovo razzo Saturn V in autunno, e il programma Apollo era a poche settimane dal lancio del primo volo con equipaggio. Nel frattempo, i sovietici, a causa di lotte interne e problemi di finanziamento, non possedevano ancora un veicolo di lancio funzionale, in grado di portare sulla Luna una navicella spaziale con il carico pesante necessario per una missione umana sicura. Inoltre, il programma spaziale sovietico soffriva di un'opinione pubblica in declino, con una lunga lista di ritardi, impedimenti e tragedie, tra cui la sfortunata missione del cosmonauta Vladimir Komarov, in cui un veicolo spaziale si schiantò sulla Terra. I sovietici non avevano nulla da perdere, quindi la missione Zond 5 era il loro ultimo tentativo di battere l'America in una pietra miliare dello spazio. Se non fossero riusciti a mandare Yuri Gagarin sulla Luna prima della NASA, sarebbero stati almeno i primi a inviare con successo un essere vivente sul satellite. Il lancio fu fissato per la metà di settembre del 1968. Nella corsa per portare l'uomo sulla Luna, l'Unione Sovietica finanziò due programmi separati. Il primo, l'N-1, era la controparte russa del razzo Saturn V della NASA, la cui missione finale era di far atterrare un singolo cosmonauta sul satellite. Il secondo programma si chiamava Zond, la parola russa per sonda, e comprendeva due serie indipendenti di macchine spaziali robotiche lanciate a metà degli anni 60. L'obiettivo era quello di inviare due cosmonauti in missioni attorno alla Luna e senza atterraggio sulla Luna. Dopo diversi tentativi di lancio falliti, i russi ottennero finalmente un successo parziale con Zond 4 all'inizio della primavera del 1968, testando il sistema della navicella a distanze simili a quelle lunari, ma non intorno alla Luna stessa. Pochi mesi dopo aver analizzato i problemi tecnici incontrati dallo Zond 4 durante un atterraggio morbido fallito in territorio sovietico, i russi erano pronti a riprovarci con Zond 5. I scienziati sovietici decisero quindi quale animale o forma di vita sarebbe stata più adatta a viaggiare sulla Luna. Grazie al loro guscio facile da fissare, gli esperti scelsero due piccole tartarughe russe per lo Zond 5. Altre due tartarughe sono state utilizzate come esemplari di controllo e altri quattro in un vivario. Inoltre, gli scienziati hanno selezionato per la missione un carico biologico diversificato, comprendente vari legumi, frutta, ortaggi a radice, uova di mosca della frutta, ceppi unicellulari di batteri e specie di fiori selvatici. Lo scopo dell'invio di questo carico leggero era quello di testare gli effetti di un'ampia gamma di forme di vita terrestri a contatto con le radiazioni cosmiche. Tuttavia, qualunque fosse l'esito dei test, i risultati non sarebbero stati analoghi o equivalenti a quelli dell'uomo, poiché tutte le forme di vita scelte avevano un'elevata resistenza alle radiazioni. Pertanto, l'Accademia delle Scienze Russa mise un manichino con sensori di radiazioni sul sedile del pilota per ottenere un effetto il più possibile simile a quello su un umano. Il 15 settembre 1968, Zond 5 è stato lanciato con successo dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan. Dopo un breve periodo di permanenza in un'orbita a bassa quota, lo stadio superiore del dispositivo si accese di nuovo per inviare il veicolo spaziale e il suo piccolo equipaggio vivente sulla Luna. Tre giorni dopo, Zond 5 ha volato intorno alla Luna, a 1200 miglia sopra il lato opposto del satellite, ed era pronto per iniziare il viaggio di ritorno verso la Terra. Poi, il 21 settembre, il veicolo spaziale è rientrato nell'atmosfera, ma non è riuscito a completare un atterraggio morbido in territorio sovietico a causa di un errore del sistema di guida e si è schiantato nell'oceano indiano. Durante il recupero del veicolo spaziale, le navi della Marina degli Stati Uniti hanno fotografato lo Zond 5 che galleggiava nell'acqua mentre i marinai sovietici cercavano di recuperarlo. Infine, all'inizio di ottobre, un cargo russo tornò a Mosca con la navicella. Il 19 settembre, l'osservatorio Jodrell Bank Discovery Center del Regno Unito e la CIA intercettarono una strana serie di messaggi. I messaggi contenevano le voci di quattro persone, tra cui i famosi cosmonauti Valery Bukowski, Vitaly Sebastianov e Pavel Popovich, che leggevano dati telemetrici e letture critiche del computer discutendo di un tentativo di atterraggio. Gli intercettatori rimasero scioccati e si chiesero se i sovietici avessero segretamente battuto la NASA sulla Luna. Secondo Eugene Sernan, astronauta Gemini Apollo e dipendente della NASA da lungo tempo, le strane trasmissioni scioccarono tutti i destinatari, ma all'insaputa degli uomini che lavoravano per la CIA, i sovietici stavano solo scherzando, cercando di ingannare gli occidentali fingendo uno sbarco sulla Luna. Il cosmonauta Popovich ha dichiarato che quando capirono che non sarebbero mai arrivati sulla Luna, decisero di fare un po' di cacciara, chiesero agli ingegneri sovietici di collegare il ricevitore della sonda ad un trasmettitore. Le missioni di volo per la Luna venivano quindi controllate da un centro di comando a Eupatoria, in Crimea. Quando la sonda era in volo intorno alla Luna, Popovich era al centro di comando in Crimea, così prese il microfono e disse «il volo sta procedendo secondo la norma, ci stiamo avvicinando alla superficie». Gli occidentali avvoccarono e per un momento credettero davvero che l'URSS fosse sbarcata sulla Luna. Persino Frank Borman, consigliere spaziale degli Stati Uniti, ricevette una telefonata arrabbiata dal presidente Richard Nixon, che chiese «perché Popovich sta facendo un reportage sulla Luna». Il modo scherzoso dei russi ha causato un vero e proprio scompiglio, circa un mese dopo quando Frank Borman visitò l'Unione Sovietica chiese espressamente di parlare con Popovich all'aeroporto. Nonostante i problemi di atterraggio, Zond 5 è stato il primo veicolo spaziale a completare con successo una missione circomlunare e a tornare a terra in sicurezza con il suo carico biologico intatto. L'operazione ha anche permesso di recuperare fotografie di alta qualità del pianeta Terra, scattate a una distanza di 90.000 km. I sovietici avevano dimostrato che non si sarebbero arresi alla corsa allo spazio, almeno non senza combattere. Alla notizia, un astronomo ed esperto spaziale britannico ha dichiarato con sicurezza che la missione Zond 5 dimostrava che la Russia era in vantaggio nella corsa allo spazio. Oltre a questo annuncio, la British Interplanetary Society ha dichiarato di ritenere che la navicella sarebbe stata in grado di inviare i cosmonauti intorno alla Luna nel giro di pochi mesi. Tuttavia, a ottobre, fonti americane cominciarono a sostenere che la missione non aveva avuto il successo pubblicizzato dai sovietici e che in realtà la missione Zond 5 aveva volato più lontano dalla Luna di quanto inizialmente previsto. Diverse fonti sosteneranno anche che l'angolo di rientro nell'atmosfera del dispositivo era troppo ripido perché un essere umano potesse sopravvivere. A novembre, l'agenzia di stampo ufficiale sovietica dichiarò ufficialmente che la Russia era diventato il primo paese a trasportare esseri viventi intorno all'orbita lunare. Le tartarughe, identificate come la numero 22 e la numero 37, sono state analizzate e sezionate dopo un prolungato periodo di digiuno e hanno perso solo un decimo del loro peso corporeo totale durante la missione. Inoltre, non hanno mostrato alcuna perdita di appetito. Gli scienziati hanno concluso che i cambiamenti del numero 22 e del numero 37 sono stati causati principalmente dall'inedia e sono del tutto estranei al viaggio nello spazio. Quindi, per tutti quelli che se lo stavano chiedendo, le tartarughe sono state riportate sane e salve. Nello stesso mese, i russi annunciarono che Zond era stato progettato come precursore di una navicella lunare con equipaggio. L'annuncio arrivò solo un mese prima del previsto volo dell'Apollo 8, per dimostrare agli americani le loro capacità. Ma alla fine, il 20 luglio 1969, gli Stati Uniti furono il primo paese a portare un uomo e una bandiera sulla Luna. Grazie per aver visto il nostro video, lascia un mi piace se ti è piaciuto il video e commenta cosa ne pensi. Iscriviti e attiva la campanella e se vuoi sostenere il canale, ti invito a dare un'occhiata alla funzione Super Grazie in basso a destra sotto il riquadro del video. Ci vediamo alla prossima qui su Spaziomatic.